sono gianni ferrario la mia attività è quella di giullare zen sarò uno dei relatori il 9 aprile alla conferenza icf di roma al palazzo del coni sarò là perché la mia attività e il coaching hanno in comune il benessere delle persone e poi perché credo molto al tema dell'integrazione e della contaminazione di generi essere creativi e generativi è l'arte di saper raccogliere lungo il cammino le cose preziose che troviamo conservarle in saccoccia e poi tirarle fuori quando arriva l'ispirazione combinandoli insieme in modo nuovo per questo motivo preparato per l'occasione le icf applications dove icf è acronimo che sta per be inspired creative and f sta per questo sarà una sorpresa un po spiazzante vieni e vedrai